Ciao a tutti, bentornati! Torno finalmente con il video dei preferiti del mese. Ho saltato i preferiti del mese di dicembre perché avevo girato il video dei preferiti 2020 skincare e makeup, quindi mi sembrava un po' inutile. Ma torno con la mia routine, quindi parliamo oggi dei preferiti di gennaio. Primo preferito di gennaio è il foreo. Questo qui è il foreo fufo. Tra l'altro mi è stato regalato dalla mia migliore amica a Natale, non poteva farmi regalo più bello perché l'ho stra-apprezzato. Questo qui in particolare ha questa caratteristica tramite questi sensori di andare a rilevare e a fare un'analisi della pelle. Vi dice in quale stato chiaramente si trova in quel momento la pelle quindi grassa, secca o magari sana e vi suggerisce la skincare da fare. Oltre ad essere una coccola e chiaramente poi non è per niente aggressivo perché i dentini sono in silicone morbidissimi quindi non aggredisce la pelle, secondo me è anche adatto per le pelli sensibili, non lo trovo aggressivo e mi piace tantissimo. Lo utilizzo tutti i giorni. Restando sempre in tema skincare, un altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questo prodotto di Skin First ed è il perfezionatore cutaneo con il 2% di acido salicilico. Questo prodotto che in realtà è un tonico esfoliante che io applico due volte a settimana, non di più, non fa altro che andare a ridurre le imperfezioni, a migliorare la grana della pelle e sconsigliato ad utilizzarlo tutti i giorni perché potrebbe risultare un po' troppo aggressivo ma mi piace tanto soprattutto quando ho delle imperfezioni in più, tipo in questi giorni ho qualche brufoletto della mascherina e grazie a questo prodotto riesco ad attenuarle, addirittura se lo applico anche due giorni di fila ma io evito, le fa scomparire. Quando chiaramente però non posso utilizzarlo due giorni di fila o più di un giorno lo applico in zone localizzate, quindi in quelle zone in cui ho delle imperfezioni in più e devo dirvi che è formidabile. Fa sparire i brufoletti, non secca la pelle, leviga un sacco l'incarnato, lo migliora. È davvero un prodotto che non pensavo ma è stato un sacco livelatore per me, quindi super favorito di questo mese. Maschera preferita di gennaio è la maschera di I'm From La Honey Mask la maschera al miele. Vi ho già detto diverse volte, se non mi seguite su Instagram fatelo perché lì magari riesco a pubblicare un po' più spesso, ad aggiornarvi anche soprattutto sulla skin care sulle novità, su quello che sto provando e infatti vi ho fatto anche vedere all'opera questa maschera mi raccomando seguitemi su Instagram, rosa caggiano, trattino basso. Questa maschera mi sta piacendo tanto si potrebbe anche applicare tutti i giorni, è una maschera nutriente, idratante, delicata, lascia la pelle luminosa e morbida è una super coccola, la texture è meravigliosa, sembra caramello, insomma è troppo buona e mi piace un sacco e davvero lascia la pelle come un peluche perché è super morbida quindi questa maschera è la preferita di questo mese. Altro prodotto preferito di skin care e ultimo di skin care è l'essenza di Etherea. Questo prodotto infatti lo sto bevendo, ve l'ho mostrato quando l'ho acquistato ce l'ho da più di un mese ma lo applico tutti i giorni, basta poco prodotto, due tre gocce insomma non più di tanto e la pelle assorbe subito questo prodotto e permette poi a tutti gli step successivi di agire in maniera anche migliore. Diciamo che l'essenza funge da veicolante e poi mi piace tanto perché proprio mi piace la freschezza, la sensazione che mi rilascia e quindi la sto adorando. È un prodotto di cui non posso più farne a meno ultimamente quindi favorita. Questa qui è la Lux Light, ve l'ho già detto e illumina anche un sacco il viso, quindi stra favorita Poi passiamo al make up Make up, in realtà non è proprio make up però è un trattamento è questo prodotto di Dior che è l'olio per le labbra di Dior quando applico questo prodotto le mie labbra rinascono in questo periodo poi con questo freddo glaciale le mie labbra sono particolarmente secche e non facendo poi troppi scrub alle labbra, le mie labbra poi ne risentono con questo prodotto riesco a trovare la soluzione perché me le rimpolpa e le idrata immediatamente tutte le rughette, le labbra screpolate vanno via immediatamente ma il bello è che comunque lascia le labbra non solo dopo qualche ora morbide ma anche durante tutta la giornata riesce a lasciarmi con la morbidezza le labbra che chiaramente io cerco è un prodotto da poco poco, costicchia però è favoloso, soprattutto con queste temperature è quasi miracoloso prodotto sempre make up è un fondotinta ed è il fondotinta di Nars tra l'altro vi ho girato anche il video di questo make up e molti di questi prodotti ve li ho mostrati quindi andate a vedere anche il video di questo make up perché magari li potete anche vedere in azione questo fondotinta mi piace tanto è leggero, stratificabile, potete avere anche un effetto un po' più coprente dona questo effetto luminoso che mi piace è consigliato secondo me anche per le pelli grasse se magari ci applicate anche se le andate a settare con una buona cipra fissante e mattificante perché comunque non fa venire fuori il sebo in eccesso io nella zona T sono grassa quindi tendo a lucidare con questo fondotinta riesco comunque a mantenere la zona non dico completamente opaca ma non eccessivamente grassa pur essendo un fondotinta non matte quindi non opaco ma tendenzialmente luminoso mi piace tanto, mi piace un sacco e questo qui nello specifico è il Natural Radiant Longwear Foundation nella colorazione Valerius e mi piace da morire poi sempre come prodotto base preferito di questo mese di gennaio è questa cipria di Hourglass che non riesco più ad abbandonarla nello specifico questa è la colorazione Viel la Translucent Setting Powder è una cipria che permette di settare benissimo è quasi giallina bianca giallina ma neanche troppo giallina fissa benissimo il trucco ma la cosa che mi piace tanto è che minimizza un sacco i pori quando applico questa cipria tendono quasi a scomparire e quindi leviga un sacco il viso si fissa bene anche il make up e soprattutto dura tutta la giornata è una cipria che non mi aspettavo che più che altro non avevo mai considerato ma devo dirvi che è favolosa mi piace tantissimo sempre make up andiamo di blush questo blush è bellissimo oltre ad essere particolare e unico nel suo genere perché come vi ho già detto andate a vedere il video in cui ho fatto questo trucco ha questa consistenza trasparente e gelatinosa che chiaramente poi una volta applicato sul viso prende subito colore e diventa rosa ma mi piace tanto perché io che adoro l'effetto un po' luminoso soprattutto in questa parte del viso che tra l'altro ce l'ho anche applicato ho anche messo chiaramente l'illuminante però il blush dona questo effetto specchiato ma non troppo e devo dire anche come è durata dura abbastanza pur essendo un prodotto in crema che magari di questi tempi con le mascherine andando sempre a toccare questa zona può anche andar via devo dire che fa un buon lavoro anche messo a dura prova riesce comunque a stare abbastanza fermo a questo punto vi mostro l'illuminante preferito di questo mese non poteva che essere la palette di Dior ed è la 004 Rose Gold le polvere di questa palette le sto amando soprattutto questa qui la sto utilizzando sempre io che adoro l'effetto illuminante discreto ma comunque che si vede queste polveri poi si fondono molto bene sulla pelle e mi piace proprio l'effetto se amate poi le polveri sottili questo illuminante è perfetto io non amo molto quelli illuminanti troppo spessi che vanno poi anche a evidenziare un po' le imperfezioni questo illuminante non lo fa assolutamente questa palette di illuminanti non lo fa assolutamente motivo per cui insomma è entrata nel mio cuore altro prodotto make up è questo mascara di Anastasia questo mascara non lo sto lasciando neanche un giorno lo sto applicando tutti i tanti giorni e ha questo scovolino tipo clessidra ma non troppo mi piace lo scovolino perché non è troppo grande quindi mi permette di andare anche negli angoli un po' più interni mi piace tanto perché anche dopo tante passate non fa grumi ma le districa molto bene le ciglia quindi soprattutto il fatto di pettinarle devo dire che è favoloso per quanto riguarda la lunghezza un po' meno però le apre molto bene le incurva il che insomma a me piace e quindi adesso sto utilizzando soltanto lui e devo dire che se non l'ho abbandonato neanche un giorno vorrà pur dire qualcosa il che significa che mi piace tanto concludo con il rossetto e chiaramente il preferito di questo mese è il rossetto di espresso nella colorazione a Roma ho detto chiaramente stavo dicendo espresso però ci stava bene ho detto chiaramente che questo rossetto mi fa impazzire anche nel trucco in cui ho fatto questo make up dove tra l'altro ho dichiarato inizialmente che forse questo rossetto non ci stava molto bene con il trucco occhi però secondo me in realtà guardandomi meglio ci può andare ci può stare e mi piace tanto mi piace tanto perché rendere le labbra morbide e idratante la profumazione è troppo buona perché sa di caffè il colore è bellissimo è uno dei miei nude preferiti anzi ho intenzione di fare il video sui miei rossetti nude se vi interessa magari commentate così magari capisco che può essere un video che mi può piacere tornando a lui è un rossetto che mi sta piacendo tanto 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 anche come durata come confortevolezza come colore io poi adesso amo tantissimo l'effetto un po' più cremoso quindi non troppo secco devo dire che mi piace tanto quindi assolutamente preferito del mese di gennaio ho terminato con i preferiti del mese di gennaio fatemi sapere che ne pensate se conoscete questi prodotti se li amate o meno ricordatevi di iscrivervi al canale e magari di lasciarmi anche un commento e passate anche a dare un'occhiata sulla mia pagina Instagram perché lì magari sono anche un po' più attiva quotidianamente e nulla io come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo presto ciao ciao